Bene, vediamo oggi un caso particolare di limite. Abbiamo visto la volta scorsa cosa significa dire che il limite per x che tende a x con 0 di f di x vale l con x con 0 ed l, entrambi numeri reali. Quindi, quando si dice che l è un numero, questo si può dire anche che il limite è finito oppure equivalentemente f di x converge a l in x con 0. Sono tutti sinonimi, perché l è un numero finito. Abbiamo visto che nei casi semplici in cui la funzione è calcolabile in x con 0, meglio è continua, allora per calcolare il limite è sufficiente sostituire a x, x con 0 nell'espressione della funzione. Abbiamo fatto il caso delle funzioni lineari. Per esempio, dire che il limite per x che tende a 1 di 2x meno 3 vale meno 1, è sufficiente sostituire 1 al valore della x nell'espressione. 2 per 1 è 2, meno 3 fa meno 1. Vediamo adesso un caso particolare. Supponiamo che la nostra funzione sia una funzione molto semplice, ma frazionaria 1 su x. Il dominio di questa funzione è formato da tutti i numeri reali a cui tolgo lo 0, oppure se preferite si può scrivere così, qualunque x è reale, ma diverso da 0. Perché? Perché in 0 la funzione non è calcolabile, in quanto il denominatore in 0 si annulla. Ok? Che cosa succede a questa funzione se, come si comporta questa funzione se x approssima allo 0? Beh, in parte ce lo dice il grafico. La funzione 1 su x è una funzione ben nota, è un'iperbole. Mettiamo x qui, mettiamo y. Il grafico di 1 su x è fatto in questo modo. Qui man mano che x viene a 0, questo diventa sempre più grande, cosigno positivo, ma se invece a sinistra di 0 diventa più grande, ma cosigno negativo. Quindi se x, facciamo così, siamo in un intorno di 0, quindi se x tende a 0, la funzione y cresce indefinitamente. Diventa sempre più grande col segno positivo. Se x è positivo, cosigno negativo, se x è negativo. Cioè, l'espressione f di x, 1 fratto x, se x è un numero molto piccolo, 1 su x è un numero molto grande. Facciamo un esempio. Mettiamo qui la x, qui 1 su x. Se x è 0,1 un decimo, questo è 10. Se x è un centesimo, questo è 100. Se x è un millesimo, questo è 1.000, ok? Così via. Se x è un milionesimo, questo è un milione, e così via. D'accordo? Quindi qui è chiaro che non c'è convergenza, no? Non c'è un numero a cui la funzione tende man mano che x tende, in questo caso, a 0. Quindi dobbiamo calcolare questo, in realtà. Il limite per x che tende a 0, di 1 fratto x. E' chiaro che qui a destra non c'è un numero. Perché man mano che x approssimo a questo numero, x, 1 su x, diventa sempre più grande. Quindi, se x è sufficientemente vicino a 0, con lo 0 escluso ovviamente, y, quindi 1 su x, può essere un numero grande quanto si vuole. Basta che x sia sufficientemente vicino a 0. Vediamo, quindi, formalizziamo in questo modo. Se x approssimo allo 0, y è grande quanto si vuole. Questo vuole, va precisato meglio ovviamente. Immaginiamo di dire, che ne so, di scegliere arbitrariamente un numero, chiamiamolo m, positivo. Comunque grande. Quanto vuoi. m è un numero positivo. Può essere 10 come prima, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000.000, non c'è problema. E vediamo per quali valori di x la funzione, in questo caso 1 su x, è più grande di m. Cioè, vediamo se riusciamo a far superare il valore della funzione al valore di m. Questo traduce in simboli la scritta y diventa arbitrariamente grande, o grande quanto si vuole. Ok? Questa è una disequazione fratta. Portiamo tutto a primo termine, a primo membro. 1 su x meno m maggiore di 0. Sommiamo. che è il minimo comune multiplo, il denominatore comune qui è x. E qui abbiamo una disequazione fratta. Abbiamo il denominatore che è x, che è positivo, se x è positivo, ovviamente. Il numeratore 1 meno m volte x è positivo, se lo risolviamo, meno mx è maggiore di meno 1, quindi mx è minore di 1, cioè x è minore di 1 fratto m. Quindi facciamo la nostra solita tabella. Qui ho x, qui se m è positivo, vi ricordo che m è positivo, allora anche 1 su m è positivo. È il suo inverso, quindi qui ho 0, qui ho 1 fratto m. Allora il numeratore è positivo a sinistra di 1 su m, quindi qui è più e qui è meno. Il denominatore è positivo a destra di 0, quindi qui è meno, qui più e qui più. Quindi qui o più, qui o meno, qui o meno. La nostra disequazione è verificata in questo intervallo tra 0 e 1 su m, quindi 0 minore di x minore di 1 fratto m. Ma questo, se osservate, è un intorno destro di 0. Quindi se x, quello che vedevamo già dal grafico tutto sommato, se x approssima 0 da destra, f di x, 1 su x, supera un numero, può superare un numero comunque grande. Analogamente da sinistra. Se noi facciamo, analogo a sinistra, quindi se possiamo far diventare f di x, cioè 1 fratto x, minore di meno m, cioè molto grande ma col segno negativo, in modo di tutto analogo risolviamo una disequazione equivalente, e avremo che x appartiene a un intorno destro di 0, quindi meno 1 fratto m, minore di x, minore di 0. Quindi un intorno destro di 0. Qui lo 0 è escluso perché lo 0 non è un valore possibile per la funzione. e il nostro intorno destro di 0 ha un raggio che vale 1 su m e o meno 1 su m nel caso di intorno destro e di intorno sinistra. Quando questo accade, ok, se, riassumo, la funzione può assumere valori arbitrariamente grandi, cioè più grandi di qualsiasi numero per quanto grande lo immagini, si dice che la funzione diverge. Quindi, risumiamo dicendo che il limite nel nostro caso per x che tende a 0 di 1 fratto x vale infinito. La funzione diverge. Attenzione a questo simbolo. Prego. Un attimo solo, ci arrivo. Attenzione, ripeto, a questo simbolo. Questo non è un numero. Ha proprietà piuttosto particolari. Cioè, vi spiego meglio. Dire che il limite è infinito significa dire che la funzione può assumere valori più grandi di qualunque numero per quanto grande uno lo pensi, a patto che, come in questo caso, x sia in un intorno di 0. Cioè, man mano che x è prossimo a 0, questa grandezza può diventare arbitrariamente grande. Con quale segno? Beh, dipende. In questo caso, se x è approssimo allo 0 per valori in eccesso a 0, il limite sarà positivo. Se è in difetto, sarà negativo. A 0. Quando i limiti sono diversi, tra destra e sinistra, allora qui non metto nessun segno. Invece, posso specificare il segno dell'infinito, cioè se un numero diventa molto grande positivamente o negativamente, in questo modo. Nel caso della nostra funzione, dire che x appartiene ad un intorno destro di 0 significa dire che x tende a 0 col più in alto. Quindi, tende a 0, ma per valori in eccesso a 0, per valori più grandi di 0. In questo caso, scriverò che il limite per x che tende a 0 più, cioè il limite destro, di 1 su x, è più infinito. Perché? Perché in quel caso, la funzione diventa molto grande con un segno positivo, cioè diventa più grande di qualunque numero positivo per quanto grande. Se invece, x appartiene a un intorno che separiamo sinistro di 0, quindi x tende a 0, o meno, quindi approssimo allo 0 per valori in difetto a 0, ok? Quindi possiamo anche fare la presentazione grafica. Qui abbiamo il grafico cartesiano. Se x tende a 0 da sinistra, il grafico della funzione è fatto in questo modo, diventa molto grande negativamente. Qui continua ad andare in giù. Allora, diciamo che il limite sinistro x che tende a 0 meno di 1 su x è meno infinito. Cioè la funzione diventa arbitrariamente grande ma con un segno negativo, cioè inferiore, minore di un numero negativo per quanto grande negativamente. Ok? Quindi qui, facciamo anche qui il significato grafico. Qui abbiamo il limite destro, quindi x tende a 0 da destra, mentre la funzione tende ad avere valori arbitrariamente grandi dico il segno più. Se invece non specifico se il limite è destro o sinistro, in generale, se dico che x tende a 0, allora dico sia da destra che da sinistra, allora il limite non ha più un segno. Devo dire che il limite per x che tende a 0 di 1 su x è infinito, senza segno. Perché? Perché il limite destro e sinistro sono diversi. Ok? Nel qual caso non posso mettere il segno. se mettessi qui un segno più e qui non specifico se il limite è destro e sinistro significa che i due limiti destro e sinistro sono identici. Come nel caso ad esempio mettiamo anche questo esempio attenzione supponiamo che la nostra funzione sia f di x uguale a 1 su x alla seconda. Qui è chiaro che questa funzione è maggiore di 0 qualunque sia x perché il denominatore è sempre un quadrato e quindi è sempre positivo quindi nel nostro caso il suo grafico sarà non è più un iperbole in questo caso ma è fatto in questo modo. Potete disegnare sempre in blu è simmetrica rispetto all'asse delle x ma man mano che x tende a 0 da destra o da sinistra la funzione diverge sempre positivamente quindi qui avremo che il limite per x che tende a 0 qui non importa che specifici destra o sinistra perché il segno è lo stesso di 1 fratto x alla seconda è più infinito qui si devo mettere il segno più perché so che la funzione è un segno più quindi diverge a più infinito quindi assume valori più grandi di qualunque numero positivo per quanto grande quindi siamo in grado di generalizzare questo comportamento quindi definizione diciamo che il limite per x che tende a x con 0 di f di x vale infinito attenzione senza segno se e solo se qualunque numero m maggiore di 0 noi scegliamo non importa quanto grande allora possiamo determinare un delta tale che se x appartiene ad un intorno di x con 0 di raggio delta escluso x con 0 al più cioè se x verifica questa proprietà 0 minore di x meno x con 0 in ore di delta queste due sono equivalenti allora la corrispondente y cioè f di x in valore assoluto è maggiore di m quindi detto al contrario f di x in valore assoluto è più grande di qualunque numero positivo a patto che x sia sufficientemente vicino a x con 0 cioè se x approssima x con 0 se invece fatemi copiare questo senza ripetere tutto se invece in un intorno in un intorno di x con 0 come abbiamo visto prima abbiamo che f di x è più grande di m senza valore assoluto allora diremo che il limite è più infinito il limite è più infinito se e solo se quando x approssima x con 0 f di x è senza valore assoluto più grande di qualunque numero positivo per quanto grande nel caso invece di limite meno infinito avremo le stesse ipotesi diremo che il limite è meno infinito col meno se qualunque numero positivo io prenda determino un delta cioè un raggio di un intorno in modo tale che se x appartiene a un intorno di x con 0 di raggio delta allora f di x è minore di meno m cioè è molto grande ma col segno negativo in quel caso il limite è meno infinito esempio vediamo se riusciamo a capirci vediamo per esempio questa funzione f di x prendiamo una funzione semplice 1 fratto x meno 2 molto simile alla precedente in questo caso il dominio di f è formato da tutti i numeri reali escluso il 2 perché? perché 2 annulla il denominatore ok mi produce uno 0 annullo il denominatore andiamo a vedere come si comporta la funzione in 2 andiamo a vedere qual è il comportamento della funzione andiamo ad esaminare il limite per x che tende a 2 di 1 fratto x meno 2 allora qui la funzione è inaloga a quella di prima è chiaro che se ho un numeratore finito e divido per un numero sempre più vicino a 0 questa diverge avrà una divergenza con quale segno? beh andiamo a vedere il segno della funzione quindi vado a studiare f di x maggiore o uguale a 0 quindi 1 fratto x meno 2 maggiore o uguale a 0 qui è semplice perché ho un numeratore che è 1 che è maggiore di 0 qualunque sia x non dipende da x il denominatore x meno 2 è maggiore di 0 per x maggiore di 2 quindi nella nostra tabella del segno qui c'è il 2 il numeratore è sempre positivo il denominatore è positivo a destra qui non esiste perché si annulla quindi qui o meno qui o più quindi la funzione è positiva a destra di 2 e negativa a sinistra quindi la funzione divergerà per x che tende a 2 da destra diverge a più infinito per x che tende a 2 da sinistra divergerà a meno infinito in generale in 2 se non specifico se il limite è destro o sinistro 1 x meno 2 diverge a infinito e basta senza segno prego certo adesso ripeto ecco questi risultati che abbiamo ottenuto abbiamo visto cosa significa questa scritta fatemi tornare indietro un secondo eccola qua sfruttando il caso dell'iperbole cioè il fatto che la c'è una frazione dove un numeratore che rimane fisso in questo caso era 1 eccola qui e il denominatore diventa sempre più piccolo la funzione assume valori sempre più grandi tecnicamente si dice che in 0 diverge diverge cosa significa significa dire che man mano che x è prossimo a 0 questa funzione assume valori arbitrariamente grandi con quale segno beh in questo caso di 1 su x abbiamo visto che i segni sono diversi a destra e a sinistra dello 0 dire che il limite tende a più infinito quindi diverge con valori positivi significa dire che posso fare in modo che scelto un numero qualunque comunque grande m positivo la funzione assume valori più grandi di quell'm a patto che x sia sufficientemente vicino a 0 in questo caso x con 0 questo significa dire che il limite è infinito non solo non approssima nessun numero reale ma assume valori sempre più grandi man mano che x approssima il valore in questo caso x con 0 se li assume più grandi con il segno positivo dico che il limite è più infinito se assume valori grandi con il segno negativo dico che il limite è meno infinito quindi preso un m positivo f di x è minore di meno m quindi nel caso della funzione 1 su x se tornassimo al grafico iniziale dove era eccolo qui qui abbiamo esaminato un intorno destro di 0 in un intorno sinistro se avessimo qui meno 0,1 qui avremmo meno 10 meno 0,01 qui avremmo meno 100 meno un millesimo qui avremmo meno 1000 meno un milionesimo qui avremmo meno un milione e così via la funzione assume valori sempre più grandi ma con il segno negativo anche quindi si dice che tende a meno infinito assume valori molto grandi ma con il segno meno ok quando questo comportamento vale sia a destra che a sinistra di x con 0 come nel caso di 1 su x alla seconda allora se sia a destra che a sinistra ho lo stesso comportamento cioè la funzione diverge con lo stesso segno allora posso scrivere questa espressione quindi qui ignoro il fatto che il limite sia a destra o a sinistra perché tanto il valore è lo stesso sia a destra che a sinistra di 0 1 su x con 0 1 su x alla seconda diverge assume valori molto grandi col segno più perché x alla seconda è un quadrato ed è positivo se invece non è lo stesso il comportamento a destra e a sinistra non posso mettere il segno all'infinito quindi dire che x per x che tende a x con 0 f di x diverge è infinito significa che il valore assoluto della funzione diventa positivo mentre non so con quale segno ha f10 c'erano altre domande? non ho sentito né se qualcuno aveva altre domande ok come faccio a sapere in generale se la funzione diverge o no? ok in generale per le funzioni fratte torniamo un attimo indietro ecco abbiamo visto un esempio se una funzione di questo tipo f di x uguale a chiamiamolo numeratore e denominatore ok se il numeratore ha un limite che tende a l diverso da 0 un limite finito mentre il denominatore infinitesimo tende a 0 quindi se ho un numeratore che tende a un numero finito e il denominatore che tende a 0 allora la funzione diverge in generale con quale segno dipende da devo studiare il segno di f di x dallo studio del segno di f di x distingo se il limite è più o meno infinito a destra e a sinistra del punto in cui questo si verifica ok quindi in sostanza se man mano ovviamente questo è questo comportamento è per il x che tende a un particolare valore x con 0 se quando x tende a x con 0 il numeratore converge a un limite finito non nullo attenzione perché se è 0 su 0 bisogna vedere cosa succede e il denominatore è infinitesimo allora la funzione diverge diverge con quale segno devo andare a distinguere se il limite destro e sinistro sono diversi oppure no facciamo un esempio consideriamo che ne so questa funzione il numeratore mettiamo 2x più 5 che è il denominatore x meno 1 alla seconda ok la funzione è razionale fratta nessun problema qui il dominio della funzione è tutti i numeri reali diversi da 1 perché 1 annulla il denominatore siamo interessati a capire cosa succede in 1 cioè qual è il comportamento della funzione in 1 e andiamo a esaminare il limite per x che tende a 1 di questa funzione il numeratore per x che tende a 1 tende a 7 basta sostituire è una funzione lineare il numeratore 2 per 1 2 più 5 fa 7 il denominatore 1 meno 1 al quadrato fa 0 quindi sono nel caso di prima ho il numeratore che converge a un numero finito non nullo il denominatore è infinitesimo quindi la funzione è divergente con quale segno andiamo a studiare il segno della funzione prego perché il denominatore è infinitesimo quindi nell'intorno di 1 avrò un numero vicino a 7 diviso 0 e quindi ho un numero finito diviso un numero molto molto piccolo e il risultato sarà enormemente grande e quindi diverge andiamo a studiare il segno ripeto di f di x fatemelo scrivere un poco meglio che è 2x più 5 fratto x meno 1 alla seconda allora il numeratore quindi andiamo a vedere maggiore o uguale a 0 il numeratore 2x più 5 è maggiore o uguale a 0 se x è maggiore o uguale a meno 5 mezzi il denominatore x meno 1 alla seconda è maggiore di 0 qualunque sia x diverso da 1 perché è un quadrato quindi qualunque numero diverso da 1 fa sì che il denominatore è positivo quindi nella nostra tabella cosa avremo qui c'è la x qui avremo meno 5 mezzi qui c'è 1 il numeratore è positivo a destra di 5 mezzi quindi qui è meno qui è nulla qui è più il denominatore è positivo dappertutto tranne in 1 dove si annulla quindi a sinistra di meno 5 mezzi è negativa in 5 mezzi la funzione è nulla tra meno 5 mezzi e 1 è positiva in 1 non esiste perché diverge e a destra di 1 è positiva quindi se osservate bene nell'intorno di 1 sia a destra che a sinistra la funzione è più quindi la divergenza è a più infinito se x tende a 1 2x più 5 fratto x meno 1 alla seconda diverge a più infinito perché nell'intorno sia a destra che a sinistra ho il limite più se nella funzione è positiva quindi qui non serve che specifico se il limite è a destra o a sinistra perché in entrambi i casi il limite ha lo stesso segno ok tutto chiaro molto bene un altro esempio ancora una cosa quindi graficamente vedete come si comporta la funzione in quel caso questo è un significato grafico come nel caso di prima vi ricordate se ho cos'era 1 su x alla seconda eccola qui vedete che la funzione 1 su x alla seconda va a più infinito sia a destra che a sinistra dello 0 quindi in 0 ha un comportamento di questo tipo quando questo accade si dice che nel punto in cui la funzione diverge in questo caso lo 0 si dice che c'è un asintoto verticale questa retta è un asintoto verticale tutte le rette del tipo x uguale a x con 0 in questo caso 0 sono asintoti verticali se producono graficamente un comportamento di questo tipo cioè la funzione man mano che x si avvicina a x con 0 assume valori molto grandi positivamente o negativamente quindi in generale questa proprietà cioè il fatto che la funzione in x con 0 diverge fa sì che la retta x uguale a x con 0 sia un asintoto verticale vedremo in generale che la funzione può avere tre tipi di asintoti verticale orizzontale o d'obliquo nel caso di divergenza l'asintoto è verticale cioè la divergenza della funzione come abbiamo visto prima in 1 questa qui la nostra funzione in 1 diverge questo significa che quando faremo il suo grafico nella regione vicina a 1 qui c'è x qui c'è y qui c'è 0 qui c'è 1 con la retta x uguale a 1 x uguale a 1 è asintoto verticale perché? perché la funzione diverge più infinito sia a sinistra che a destra in caso di questo tipo poi qui farà quello che farà non ci importa per adesso ha un comportamento analogo a quello di 1 x la seconda qui in realtà la natura dell'asintoto è indipendente dal segno dell'infinito abbiamo asintoti verticali tutte le volte che la funzione diverge sia a più infinito che a meno infinito ok? questo quindi questa proprietà la divergenza ha un significato grafico importante ok? la prossima volta vedremo che cosa succede se i ruoli si scambiano cioè se ad essere arbitrariamente grande è la x e vedremo il comportamento della y d'accordo? vediamo cosa succede la funzione quando è x che diventa molto molto grande positivamente o negativamente per oggi direi che ci fermiamo qui ok? ok ok Grazie a tutti.